Terza, solo femmine, anche buone femmine di tre anni sul miglio, la fila è completa dietro le ali della macchina Ultimatum Moon, Utilus Ultrasan, Utel Emper, Ut Resonar Amnis, molto gettonata, una Stella Gare, Amper Denigrif, Eurali la più gettonata. Otto femmine di tre anni, miglio, terza del convegno mezzo meccanico in movimento. Un po' ha arretrato il numero sei di una Stella Gare imitata da Amper Denigrif e Eurali, cioè i numeri alti. Galoppa il tre Ultrasan, si lotta per il comando alla chiusura con Ultrasan che tenta di mantenere i birilli ma allarghi incumbe la Amnis di Gallucci, così la lieva di Gallucci già al comando, 13.3 il lancio, Utel Emper ha avuto problemi ed è lontano. Si va al completamento della piegata, lunga fila indiana molto sfilacciata con la leader che percora i 400, deve essere un po' guidata sta cavallo di Gallucci, è bravo lui tanto per cambiare, 29.1 e si affaccia subito l'alternativa, cioè la più gettonata, Aurali. E il Varen di turno, chiedo scusa, solo mista tra femmine e maschi, 45 da 1.15 i primi 600 metri, e il Varen di turno va al Salchi di Utresanare Amnis. Cavalli che affrontano la penultima curva, l'andatura è brillante, mezzo miglio, in un minuto abbondante si viaggia da 1.16 e ora la traccheggia a largo di Utilus, al comando Utresanare Amnis. E di fronte la GS foto di Gallucci, leader, il chilometro in 1.15 e 4.14 e 7 di frazione, si ingamba e va in carburation l'allievo di Minopoli, l'allievo di Minopoli sta già passando a redini basse, passa il Varen, 400 alla meta, frazione di fronte in 14.7, 1.31 i tre quarti di miglio, ma viene via bene Ultimatum Moon, Avali al completamento della curva finale, l'Espluacaf di Fierro ci prova, retta d'arrivo e viene via la grande Ultimatum, a Pariglia completamente Urali, si lotta tra i due, la lotta è incerta, riparte Urali, Urali in vantaggio, cavalli in zona traguardo, Urali porta a casa, la vittoria, due minuti e un battito, 1.15 e 1, bella vittoria di Urali SM, l'ennesimo Varen del team Minopoli, molto freddo Mario Minopoli Junior, sembrava che l'allievo di Fierro, ma bisogna dire che ne esce alla grande, questo bel Sauri da Espluacaf, ma freddo, freddo, molto freddo, Minopoli riparte con il suo allievo e si afferma ancora nettamente, 8, 1 e per il terzo, dopo un po' molto tempo, il 5 di Uth Resonare Amlis, due minuti e un battito, 1.15 e 1, 1.80 alla quota, linea allo studio.